Una partita persa, nonostante non siano mancate le occasioni per il Benevento, c'è stato anche un rigore sbagliato da coda, ma partiamo proprio dal gol subito. Ti sei arrabbiato parecchio? Hai preso un giallo per un fuorigioco, giusto? O un fallo su di te, ecco, perché la tua rabbia, anche se ti possiamo dire che in effetti c'era proprio il fuorigioco, così pare? Diciamo che io in campo non ho visto... Io in campo non ho visto il fuorigioco, perché ovviamente ero per terra pensando alla parata. Io mi sono molto arrabbiato perché sul momento mi è sembrato che il giocatore che ha fatto gol, che ha impattato la palla per la terza volta sulla seconda respinta, il giocatore che ha fatto gol mi ha impedito di rialzarmi. È per quello che io ho protestato, perché secondo me, avendo campo libero e potendomi rialzare, non dico che potevo fare una mega parata così, però magari potevo fare qualcosa di più dando fastidio anche a lui. Poi, una volta entrati nello spogliatoio, mi è stato detto che c'era il doppio fuorigioco. Questo l'ho presa molto male, diciamo, perché purtroppo è un errore arbitrale, non facile da vedere, però è un errore pur sempre arbitrale. E dispiace una partita così, in 10 contro 11, che secondo me stavamo difendendo molto bene, perché hanno avuto di occasioni nitide, forse una nel primo tempo, quando eravamo 11 contro 11. E gli ha mancato da Di Carmini. Esatto, sul cross teso. Secondo me era molto dura che ci facessero gol, perché ci eravamo messi lì, ci eravamo chiusi tutti, e noi con il fatto che eravamo in 10, ci eravamo guardati in faccia e di sicuro non volevamo mollare nulla. Infatti dopo, dal 10 contro 11, abbiamo dominato la partita. Il problema è che per questo episodio, col doppio fuorigioco, ti fa arrabbiare ancora di più, perché è un episodio che poteva girare a nostro favore. Noi ti abbiamo votato come migliori in campo, perché tra l'altro sull'1-0 c'è stata l'occasione, forse l'unica, se vogliamo, del Verona, dove potevano chiudere definitivamente la partita e tu hai fatto una parata eccezionale. Sicuramente forse è l'unico aspetto positivo della serata, però è un tipo che sta crescendo partita dopo partita. Che mi abbiate votato come migliori in campo a me fa assolutamente piacere. Come ho già detto tempo fa, preferisco che, tra virgolette, anche di essere il peggiore in campo, ma che la squadra porta a casa i tre punti. Perché il migliori in campo, siccome eravamo in 10 contro 11, ci può stare che sia il portiere, però preferivo che il migliori in campo fosse qualcun altro della squadra, da virgolette. A me fa assolutamente piacere che abbiate questa considerazione di me e che notiate, tra virgolette, la mia crescita. Io senza dubbio mi vedo in crescita anch'io, ma questo non vuol dire che, tra virgolette, si debba morare sui dettagli e sulle piccole cose. Perché sono quelli che a lungo andare a maggio, sono quelli che ci faranno tirare le somme per vedere dove saremo arrivati. Magari coda, Antonio, migliore in campo, no? Adesso magari stavamo commentando un'altra partita, vai. Certo. Allora, io qualche domanda me la riservo per domani sera, perché, come dicevo poco, anzi, domani Lorenzo Montipò sarà ospite di otto gol. Tutti e forti, mediatico. Esatto. Scherzi a parte, l'hai fatta apposta a giocare benissimo così domani sera. Cioè, sto cercando di sdrammatizzare. Vabbè, gli farei poche domande, abbiamo capito perché poi... Anche se siamo tutti arrabbiati, perché sentire che su un solo gol, su una sola azione, ci sono tre irregolarità, secondo me c'è qualcosa di grave, c'è qualcosa che non va. Fallo sul portiere, due fuorigioco. Cioè, due fuorigioco. Fallo sul portiere, che posso essere sincero, è stata la mia prima sensazione. Anche la mia. Io non ho detto che era fuorigioco. Anche la mia. Poi ci hanno detto da casa che era fuorigioco. Io ho visto nettamente che tu hai subito fallo, nel momento in cui la seconda volta stavi per rialzare, sei stato affossato. Ecco, e quindi detto questo, effettivamente fa rabbia. Ecco, Lorenzo, ti sentivo dire che anche tu noti la crescita. Allora, ti posso dire che anche noi, dagli spalti, dalla tribuna, rispetto alle prime prestazioni, anche a quella nera di La Spezia, perché non sono solamente rose, ma anche qualche spina. Ti vediamo adesso più sicuro. Comandi, parli, sei più reattivo. Probabilmente eri intimidito dalla lunga assenza, eri un po' corrugginito dalla eccessiva panchina. E soprattutto, negli spogliatori adesso, ecco, quella è la domanda personale, negli spogliatori adesso avevate rabbia, ce l'avevate con coda, siete fatalisti, siete mortificati per i tanti infortuni. Ecco, che area si respira? Tra le altre cose abbiamo saputo che vieni solamente tu a parlare, quindi deleghiamo a te tutte le sensazioni. Assolutamente, assolutamente. No, ti posso dare del tuo. Ti dico subito che avercela con coda è fuori da qualsiasi discussione, perché non ce la possiamo prendere con un compagno, soprattutto con il nostro capocannoniere, che sbaglia un rigore, perché anche precedentemente il rigore aveva calciato centrale, ha deciso di ricalciarlo centrale, poi il modo in cui l'ha calciato è stata una sua scelta, ma l'avesse calciato come a Carpi avrebbe parato lo stesso il portiere. Quindi non diamo nessuna colpa a coda, perché è un valore aggiunto per noi, è un gran giocatore, però la Serie B secondo me può fare la differenza. Nello spogliatoio eravamo tutti rammaricati, sappiamo che però manca poco alla fine del giorno d'andata e dobbiamo ringranare e fare di più. Sappiamo che possiamo fare di più e cercheremo di dare ancora di più rispetto a quello che stiamo dando, nonostante gli episodi purtroppo che ci stanno dando contro. Dopo tre anni a Benevento la squadra è uscita tra i fischi generali del pubblico. Questo non lo sapevo. Purtroppo dispiace, perché il pubblico dalla nostra parte è una delle cose che noi giocatori ci... cioè è proprio come si suol dire il dodicesimo uomo in campo. Il fatto che ci fischino vuol dire che proprio non abbiamo, secondo loro, meritato ovazioni o cori favorevoli e questo dispiace e ti fa riflettere ancora di più. Però allo stesso tempo sappiamo che siamo noi quelli che siamo gli artecipi del nostro destino. Ossia siamo noi 25, 26 di quanti siamo in Rosa e questo vuol dire che se noi ci racchiudiamo nel nostro, tra virgolette, guscio e daremo ancora di più, senza dubbio, secondo me, questa piazza tornerà a farci cori a favore e a incitarci ancora di più. Grazie, Lorenzo. Tanti infortuni che stanno costringendo il mister a cambiare spesso interpreti, tra l'altro è stato anche cambiato modulo, ma oramai da qualche partita. Ecco, anche questa situazione sta un po' condizionando l'andamento del Benevento, perché insomma il calcio ha anche bisogno di equilibrio, no? Ed è quello un po' che sta mancando in campo. Assolutamente. Purtroppo gli infortuni fanno parte di questo mestiere. Il fatto che ce ne siano così tanti, come ho detto prima, sono gli episodi che ci stanno dando contro, purtroppo, perché anche ieri abbiamo avuto la ricaduta di maggio. Purtroppo oggi ancora, di Chiara, ha avuto una ricaduta, ora non so cosa, che ha dovuto lasciare il campo dopo un quarto d'ora, venti minuti, e questo non ci aiuta per niente, perché sappiamo che con la rosa completa siamo una grande squadra, però allo stesso tempo dal colpo agli infortuni per questa situazione sono delle scusanti. Abbiamo una grande rosa, possiamo fare tanto, se avessimo tutti a disposizione potremmo fare ancora di più, mettiamola così. È un Benevento che fino a ieri aveva ritrovato il sorriso, per via degli ultimi risultati, anche quello per carità in Team Cup. Questa sconfitta cambia l'umore della squadra, se sì, in termini di quantità, e come si andrà a questo punto a Cosenza? Questa sconfitta, diciamo, che ci fa accendere una lampadina, cioè sappiamo che non dobbiamo slederci sugli agori, perché come facciamo bene due partite in campionato e una in Coppa Italia, dove secondo me abbiamo fatto tre grandi partite, può esserci una ricaduta, perché la Serie B è questa, la Serie B è troppo equilibrata, perciò sappiamo che non dobbiamo mollare, perché Cosenza, a mio parere, è uno dei campi più difficili di questa Serie B. Loro sono molto rognosi e quindi sarà una gran partita. Andremo sicuramente la convinzione che dobbiamo portare a casa i tre punti e poi il resto si deciderà sul campo in quei 90 minuti. senza volta, servirà un doppio Montipò, due, per blindare ancora di più. Sì, sarà la prima partita che salterà a massimo. Come tutte le difficoltà difensive, Costa non ci sarà anche. Costa è espulso e purtroppo abbiamo molte defezioni dietro. Vedremo come ci presenteremo a Cosenza, ma senza dubbio chi giocherà sa quello che deve fare, perché lo prepariamo bene a settimana e vedremo come andrà.